Ragazzi, fate i compiti! Dovete fare i compiti! Vi ricordate tutti voi il film Indiana Jones e l'ultima crociata? Ci credete che io ho già parlato di alcuni giochi tratti da quel film che erano delle vere immondizie, ma questo che voglio mostrarvi è un titolo che, secondo me, alza un po' il tiro il fatto di avventure grafiche. Si tratta di Indiana Jones e l'ultima crociata per i sistemi Amiga. Beh, se devo dirvi la storia, cercano appunto di seguire appunto la storia dell'omonimo film, che, adesso ve lo dico così su due piedi, riguarda Indiana Jones e i nazisti che sono alla ricerca del sacro graal di Gesù Cristo, sembra. Non me lo ricordo molto bene, perché è un bel po' che non vedo quel film. Vabbè, ma lasciamo perdere questa e vediamo ovviamente la grafica. Vi dico che, essendo un titolo rilasciato nel 1989, ancora oggi può ancora difendersi abbastanza bene, perché le ambientazioni vedo che sono molto anni 30, ben fatte nel design, gli oggetti sono stati ben fatti, c'è un buon effetto di profondità, forse potevano un po' migliorare la luminosità e anche le ombreggiature, ma posso perdonarglielo. Poi i personaggi, ok, tutti hanno questa sorta di, insomma, di brutta forma, un po' particolare, però posso dirvi semplicemente che il gioco si difende ancora oggi abbastanza bene, le animazioni sono anche addirittura abbastanza buone. Quindi, insomma, questo titolo ve lo straconsiglio sul lato grafico, perché ancora oggi sicuramente può ancora impressionare. Sonoro, stessa cosa, questi sonori molto semplici, non c'è un doppiaggio in lingua inglese, abbiamo anche addirittura colonna sonora che è molto da floppy disk, ma ci può stare, non è proprio invasiva. Per quanto riguarda la giocabilità, questo gioco Indiana Jones l'ultima crociata è un'avventura grafica punta e clicca, che utilizza il motore SCUM. Tenete presente che la Lucasfilm Games ha utilizzato questo tipo di gameplay un po' su tutti i giochi, un po' tipo come Monkey Island, solo che quello lì verrà dopo. E tra l'altro, con l'ausilio del mouse vi aiuterà abbastanza. Ma allora cos'è che ha introdotto di nuovo questo gioco da quando è partito il motore di gioco SCUM? Posso dirvi che esistono finali multipli, ce ne sono tanti, a seconda del punteggio, delle azioni che facevate, e soprattutto delle soluzioni alternative. Tra l'altro, in questo gioco è stato introdotto il concetto Indie Quotient, il Quotiente Indie, che è insomma un punteggio che premia ovviamente i giocatori. Insomma, questo è un gioco che è abbastanza difficile, vi mette a dura prova la vostra materia grigia, lo so, sembra un po' ridicolo da dire, ma io penso che secondo me è un titolo che vi terrà incollati allo schermo per parecchio tempo, soprattutto se non sapete che cosa fare. Questo titolo avrà qualche innovazione che verrà utilizzata in segreto a Monkey Island. Non dovete farvelo scappare. Ci vediamo domani! Grazie! Grazie!